Tutti ragazzi sono vero Lovatoana Oggi sono euforica Sì Euforica Sono uscita con mia madre E ho comprato questo qua Quasi sono scatole Guarda una migliaia Di doppie Con tante doppie Allora Questa è la scatola No questa è la scatola Cos'è la carta guarda No bellissime Codicini Per voi Codicini per voi Magari qualcuno Mi guarda Speriamo perché Io faccio Io faccio per divertimento Non mi interessa I follower No ragazzi C'è la scatola Mamma mia che belli Sti pacchetti Roscia vuot Devo vedere se c'ho la base Ragazzi Ragazzi Io non sto contenta Allora Allora questa Allora questa Sono agitata Di più mi è agitata Aspettato che va via Andassi via Natalia Perché Questa è la spiona E lo dice Però A me non mi frega niente Se lo dice Tanto I pacchetti Sono miei Tanto non dice niente Perché Amore Io ho poco meno Di un No ragazzi Devo vedere Devo vedere se c'ho La base di oscia vuot Cioè no ragazzi Io ne ho Tante belle Ne ho tante Ne ho Una più bella dell'altra E non voglio mica Perderle Per Sono doppie Poi guarda che ci faccio Scambio Non rompe le palle Monica e papà Dicendo Tu sei grande Non devi averle Ma chi te l'ha detto Federic Che grande Adulto Federic Wow C'ho anche la base Di oscia vuot La base di oscia vuot Adoro oscia vuot E' il mio pacchetto E' il mio pacchetto Preferito Ma poi scusa Federic Adulto Cioè Non è che E' proprio da bambino I bambini Lo fanno Per imitazione Sì vabbè Sono andati i bambini Ma I bambini Ovviamente Lo usano Lo collezionano Io lo faccio per hobby Ho tantissime carte da aprire L'adrenalina a mille L'adrenalina a mille Le scambi Le doppie le scambio Vabbè Le doppie vedo Le scambio Oppure le tengo Così Se c'è Se qualcuno Me le prende Ce li ho Le doppie Le doppie Dopito Oppure Ho trovato No ci credo A tutta la Rivoluzione La mamma Tanto E' contenta Perchè Questa Me le ha regalate Mia madre Che me le ha regalate Mia nonna Me le ha regalate Che me le ha regalate Mia madre Quindi Quindi Vedi Vedi Sono contenta Perchè Io Le ho Le ho tantissime Chi è? Ci vediamo Passo video Ciao